Prosegue l'arrivo dei profughi dall'Ucraina a Pescara nella nostra regione. Assessore, avete messo a disposizione dei profughi delle strutture, ci sono anche alcuni che sono negli alberghi tra Pescara e Montesilvano, ma state trovando anche altre soluzioni, è stato anche riaperto il cassa di penne. Sì, diciamo che la situazione su Pescara è stata gestita molto bene, però iniziano ad essere appesantita perché ci sono stati oltre 1200 arrivi, circa 500 sono stati collocati in alberghi. Non dimentichiamo che Pescara ha una identità turistico balneare, quindi con la stagione alle porte è ovvio che noi come amministrazione cerchiamo anche di stimolare una soluzione alternativa a quella che abbiamo gestito finora, che per certi versi ha anche fatto reddito per le strutture turistico-recettive. Quindi da qui in poi stiamo cercando, innanzitutto con il coordinamento della protezione civile regionale, di mandare su altre città, su Teramo, sul Teramano, le arrivi a Pescara, di modo che c'è una decongestione di Pescara città. Poi stiamo cercando anche altre strutture, magari che sono non diretta utilizzata dall'attività turistico-recettiva, in questo caso balneare di Pescara, per essere in qualche modo messa in campo per accogliere queste persone. Parlo senza fare nomi perché non ancora c'è l'interlocuzione con la proprietà, ma semplicemente con il curatore fallimentare di un noto albergo di Pescara, che in qualche modo verbalmente ha dato la disponibilità all'essere utilizzato. E se ovviamente questa procedura composita di attori, che sono il Comune, la Prefettura, la Regione e ovviamente altri interlocutori, trova la quadratura, potremmo anche ipotizzare di utilizzare questa struttura per assorbire parte della presenza sul territorio di Pescara. In più stiamo anche muovendoci, mettendo ovviamente il carro davanti ai buoi. Pescara, dalla mia persona, quindi l'assessore della protezione civile, giovedì andrà a fare anche un sopralluogo all'ex supermercato di Lidl Italia a San Donato, che ha dato la disponibilità di massima frino a luglio per poter essere utilizzabile quale punto di accoglienza. Quindi un altro punto di accoglienza nel caso in cui aumenti semplicemente l'arrivo a Pescara.